Ciao, la fine dell'anno si avvicina ed è sempre un momento speciale nel quale è utile fare un bilancio di quello che abbiamo fatto, magari mettere giù un po' di buoni propositi per l'anno nuovo. Per me è un momento nel quale ho riflettuto su quanto sia importante, cruciale, veramente fondamentale per me da ora in poi, prendere tutte le conoscenze e tutte le esperienze che ho accumulato in questa vita e metterle piano piano in modo semplice e spontaneo a disposizione di tutti, proprio per dare il mio contributo semplice sulla base delle mie capacità a che questo mondo sia un po' migliore di quello che ho trovato quando ci sono arrivata, a fare la mia parte. E così questo filo diretto, così mi è venuto in mente di creare questo filo diretto che stai ascoltando già da un po', stai vedendo già da un po'. È un filo diretto nato come idea anche mentre ero in viaggio e che sicuramente continuerà anche quando sarò tornata a casa, nella mia isola di Marta. Il desiderio è quello di portarti semplicemente in modo veramente spontaneo, credo settimanalmente, adesso vedrò, lascio proprio che la cosa continui così in modo assolutamente free, tutto quello che sono le conoscenze teoriche, ma anche tutto quello che è la parte pratica, quello che fa parte delle mie abitudini, quello che fa parte della mia vita, che magari può essere per te di ispirazione, di riflessione. Mi piacerebbe che questo diventasse nel tempo davvero un filo diretto, per cui fammi sapere se ti piace e fammi pure le tue domande, perché io magari seguirò un mio intento, un po' un mio ordine, però sarà bello, se vorrai, attraverso le tue domande, entrare ancora di più nella tua esperienza concreta e magari posso dedicare alle tue domande anche una puntata di queste chiacchierate, una puntata che può essere di interesse per gli altri, e allora perché no, fare una full immersion magari in un aspetto che desideri, per cui fammi sapere cosa ne pensi e ovviamente a te vanno i miei più grandi auguri proprio da tutto il mio cuore per questo nuovo anno, perché sia pieno di regali profondi, di salute, di amore, di gioia e di tanta consapevolezza. Ciao!